Sulla tragedia di Eboli, nella quale presso lo svincolo autostradale hanno perso la vita i conugi Mario Valiante e Vilma Fezza, interviene la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti che annuncia un'interrogazione in merito. In concreto la parlamentare Pentastellata chiede al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini perché Anas non abbia messo a gare il progetto di rifacimento, potenziamento e messo in sicurezza dello svincolo dell'A2 in prossimità proprio di Eboli. Non è detto però che il tragico sinistro sia direttamente collegato con la pericolosità dello svincolo, ma in ogni caso monta la polemica sulla vicenda. Vengono richiesti in oltre approfondimenti sui ritardi nella realizzazione dei lavori e per quali motivi ciò sia successo. A questo potrebbe collegarsi anche la questione dell'alta velocità per la quale sono in corso le progettualità di realizzazione con tanto di espropri. L'istanza da parte di Anas venne presentata nel 2022 e negli ultimi due anni non si è mosso nulla, forse proprio per la situazione della strada ferrata tra Battipaglia e Romagnana al Monte. In ogni caso il dramma della scorsa settimana arriva in Parlamento, mentre si indaga su cosa sia accaduto e dove siano le responsabilità. Sono stati ben sette i veicoli coinvolti, tra cui un camion che si sarebbe ribaltato colpendo l'auto sulla quale viaggiavano marito e moglie. Numerosi sono stati i feriti, qualcuno grave, che a distanza di una settimana sono tutti fuori pericolo.